ciao a tutti sono veri video games e oggi continuiamo con super lucky stale e niente andiamo avanti siamo così felice che tu sia qui lucky ho sentito un gran bene sul tuo conto se come guardiano vale la metà di tua sorella siamo in ottimo enani mi alleno qui tra gli ingranaggi e gli spunzoni perché mia uscio detta che ogni cosa sia questione di vita o di morte questo sarà un ottimo test per te buona fortuna allievo ma per adesso svanisco ok iniziamo prendiamo monetine cavoli dobbiamo stare attenti alle parti cavoli dobbiamo stare attenti alle piattaforme che soccorta che sotto hanno quei specie di chiodi diciamo perché qua ci sono gli uccellini pio pio andiamo avanti o no no ok ho paura di queste piattaforme ok perfetto prendiamo diamante ok prendiamo se altre se monetti no 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 mamma mia che culo proprio ma come sono carini però sono i nostri nemici poccato no 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 e no non mi non mi devi toccare allo stronzo dove sotto niente ok abbiamo raggiunto il checkpoint perfetto quindi se perdiamo tutte e tre le vite ripartiamo da qua meglio ok qua le piattaforme sembrerebbero tutto a posto quindi nei altri brucchi insomma quel cacchio che sono non lo so con quali del tasto premere per far scendere il suo coso boh anche perché non metto neanche i tasti sulla tastiera non lo so vabbè andiamo avanti ok abbiamo raggiunto i checkpoint oh madonna a me ci sono pure le palle di fuoco adesso no eh ok prendiamo la piattaforma sicura ovviamente perché non vado a prendere quella la che poi mi va via una vita e poi devo riniziare di nuovo la capo no grazie non ci tengo vabbè che noi dovremmo riniziare da qua visto che abbiamo raggiunto i checkpoint però madonna ok per fortuna ok vai un altro checkpoint perfetto dai che dobbiamo andare avanti dai dai che dobbiamo andare avanti no ancora questi no che balle madonna è tutto per le piattaforme qua così vabbè saltiamo dai vai 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 ok dove andiamo a finire adesso ma stiamo là in fondo e che faccio già che non ci vedo io ok qua ritorniamo così niente ritorniamo la e ciao ma non ci vedo se vabbè perdo tutte le vite in un istante qua ok dai dobbiamo provare a saltare ok una abbiamo presa due no quelle brutte no non le voglio dai 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 vai su no è andata male ma noi non ci arrendiamo e quindi riniziamo ok ma che di nuovo queste piattaforme che detesto tanto no ok proviamo a stare su vediamo se porta un'altra via boh in effetti porta forse un'altra via perché di là non si vedeva un cacchio già che io non ci vedo niente e infatti devo andare sopra cavoli bene dai perfetto abbiamo preso il quadri for you ok abbiamo sbloccato nuove cose è la nuova porta il regno di lord ok andi entriamo dentro questo regno che cosa ci aspetterà non lo so ok vediamo su strunze non può essere come hai fatto a seguirmi se sopravviverai alla prova del fuoco mi troverai ad attenderti ma per adesso svanisco ma va non lo sapevo dici sempre quello ma che balle sei un guardiano vero sono il custode della porta ma mi serve il mio corpo per aprirti la porta mi hanno detto che nessuno rimette le teste sui corpi meglio di te mi aiuti bene effetti abbiamo una certa esperienza va bene penso che non sarà molto semplice già vedendo queste palle di fuoco ok allora ci ok perfetto così no vai avanti ho sbagliato proprio vabbè devo andare un pochettino più avanti ok prendiamo monetini mamma mia eh lo sapevo non me ne sono neanche accorta che il sotto c'era dove cacchio andiamo adesso ah devo andare di qua allora sì ok non sarà molto semplice già ho capito però dai ci proviamo oh mio dio mi sto rimbambendo no 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 ecco sono pure caduta perfetto proprio uffa allora risaliamo di nuovo su questa cavolo di piattaforma no 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 ok non è molto semplice se non dai neanche il tempo di salirci su questa piattaforma ok no e ma che balle se mi metto così non va bene se mi metto così non va bene no 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 mi sono rotta le bolse proprio ok riniciamo scusate se non sto parlando ma sono concentrata quindi ok aspettiamo queste cose perfetto devo stare attenta a queste piattaforme ok aspetta ok vai 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 no ok siamo nel centro anzi mi metto un po' più là eh no che cacchio ne devo mettere più di qua ok dai ciò abbiamo fatto alleluia eh ok prendiamo la L ok vai di là no ok va bene ok perfetto check point oh vedo male ok adesso come cacchio dove cacchio devo andare eh scavoli eh dove cacchio vado adesso passati oh vedo male eh ok prendiamo intanto le moletine se non ok ok va andiamo piano cioè devi andare piano perché ce l'hai sia dietro che davanti e rischi di scottarti dici una volta insomma eh no eh che cacchio però uffa questi cacchio di tasti e niente riniziamo ok dobbiamo stare sempre attenti a queste palle di fuoco ok pianino pianino andiamo avanti un passo alla volta ok madonna meno male non mi sei girato ok dai 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 che stiamo andando bene no non stiamo più andando bene ma per che ho detto che stavamo andando bene eh come faccio io adesso a salire su cacchio che faccio ecco ti parevo dove cacchio devo andare poi eh che cacchio però oh ok non ci posso credere dovevo prendere lo stesso con la piattaforma ero avanti ma vaffanculo va ok dimmi che c'è un altro checkpoint vedo male ok chi osa risvegliare lord break bruciacoso bella pelliccia più bella in fiamme non scappare bruciacoso voglio sbucciarti che stronzo oh madonna mia ok dobbiamo scappare dobbiamo scappare dobbiamo scappare oh no 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 eh no stronza non mi devi beccare vai avanti 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 di nuovo nell'ostacolo ma che cacchio sì no qua c'è il coso sì per andare su ok perfetto vai 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 no qua non c'è no 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 è tipo arriva che non mi beccava sto stronzo e no se mi becca un'altra volta no eh dai 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 non so che cacchio altro dire a parte dai madonna mia dai dai ok magnifico questo non è il mio corpo è di qualcun altro bla mi sento strano grazie però accontentati stai attento lassù non farti rubare la testa al maestro mite ok andiamo su e siamo su ma come ma come hai palle di fuoco è un mostro enorme ti bloccava la strada perché siamo bravi bam non importa è stato un gioco da ragazzi preparare trappole guarditi la tua piccola vittoria perché sarà l'ultima ok prendiamo le monetine vabbè ne ho anti ovviamente nel video cercherò di saltare alcune cose perché sennò diventa troppo lungo ok la piattaforma le tre piattaforme l'abbiamo presa già vedo che l'anno è molto semplice e sarà molto difficile penso che devo rifare tutto da capo no eh salta no e ti pareva e vabbè meglio ridere che farti venire nervoso ok abbiamo preso il quadrifoglio sì e abbiamo preso il quadrifoglio abbiamo preso il quadrifoglio ok quindi pure questa porta l'abbiamo completata cioè questo livello questa porta vabbè ok quindi adesso ci dovrebbe far vedere un'altra porta che è stata sbloccata ok si è sbloccato questo poi che cos'altro ecco la porta pericolo porcino cosa c'è un fungo boh va bene dai direi di rifinire qua se questo video vi è piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao